Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale siamo qui oggi per un video ancora di analisi visto che ci sono giocate 19 giornate in serie B e visto che finalmente, finalmente, questo weekend torna alla serie B ultimo video analisi sulle prime 19 giornate perché poi da martedì iniziamo a prepararci seriamente a quello che verrà alla ventesima giornata sarà una giornata intensa, non con tanti sconti diretti con partite importanti mi viene in mente Parma-Bari e soprattutto il Genoa col Venezia che potrebbe sicuramente dare qualche insidia però da come avete letto dal titolo è un video diverso le mie 4-5 delusioni in queste prime 19 partite non ho mai fatto un video così, voglio farlo perché ho delle motivazioni porteremo qualche dato nel spiegarvi perché secondo me ovviamente ci sono delle delusioni in questo primo girone di andata, prima giornata di ritorno però prima di partire col video vi devo chiedere un pollicione in su al video tanti mi piace qua sotto, 30-40 mi piace un'iscrizione al canale, iscrivetevi, non vi costa assolutamente nulla tante iscrizioni qua sotto e noi possiamo partire subito partiamo un attimo con elencarvi quali sono le squadre che ho scelto di discuterne in questo video parliamo di Venezia, parliamo di Spal, di Como, di Benevento ragazzi e anche il Cagliari sarebbe la quinta però sul Cagliari ho fatto già parecchi video voglio concentrarmi di più su queste 4 squadre partiamo dal Benevento che è quella che in questo momento in classifica è messa meglio per modo di dire 14esimo, 22 punti, punti raccolti nelle ultime 3 partite 4 punti, una vittoria, un pareggio e una sconfitta viene dall'ultima sconfitta quella contro il Perugia per 0-2 in uno sconto diretto pesante è una sconfitta che ha fatto un po' ridimensionare ancora di più questo Benevento dopo qualche minimo risultato buono è arrivato contro il Cittadella per 1-0 il pareggio con il Modena la vittoria a Parma che è stata molto inaspettata e quindi è una sconfitta che ha fatto rimettere tutti i piedi per terra perché è una squadra che comunque il Benevento il grande problema di questo Benevento qual è? fa pochissimi gol nel senso 17 gol in 19 partite sono veramente pochi non è neanche una squadra che subisce tanti gol perché alla fine ha 20 gol subiti viaggiano a media di un gol subito a partita non è neanche troppo male però sicuramente quel dato di quei soli 17 gol fa un po' preoccupare tutto l'ambiente soprattutto Cannavaro secondo me non ancora inciso al 100% su questa squadra per l'appunto parliamo ancora anche un po' di dati un po' cosa combina questo Benevento in fase offensiva per numero di tiri ragazzi tiri totali il Benevento occupa la quarta ultima posizione ha calciato 213 volte di chi solo 58 volte in porta in queste prime 19 partite capite che c'è veramente qualche problema forse è una squadra che calcia troppo poco e soprattutto fa fatica tanto ad arrivare a calciare che sia in porta o che sia fuori quindi uno dei grandi problemi il grande problema di questo Benevento è la finalizzazione è l'arrivare ad essere pericolosi questo fa sì che la squadra abbia solo 22 punti e in questo momento si trova a lottare per non retrocedere ma facendo il mio pronostico per meglio l'evento difficilmente si tirerà fuori da questa posizione si troverà a lottare fino alla fine per non retrocedere sicuramente si può salvare perché la rosa è forte vediamo gli acquisti di gennaio che tipo di acquisti saranno visto che sicuramente verrà rinforzato e di non poco secondo quello che dicono il reparto offensivo può migliorare questa statistica perché è il vero problema di questo Benevento andiamo sul Como ragazzi il Como che è 15esimo anche loro a 22 punti fondamentali sicuramente le ultime due vittorie del Como che hanno fatto fare un bel balzo in classifica comunque hanno notato una crescita di questa squadra che ha vinto 0-3 a Terni e 2-0 in casa col Cittadella due vittorie importanti adesso avrà un test il 14 contro il Cagliari a Cagliari importantissimo vediamo quanto è maturato veramente questo Como dovesse fare punti a Cagliari sicuramente possiamo dire che il Como è una squadra nettamente in crescita e che si può tirare veramente fuori da queste sabbie mobili il Como è una squadra che faccio ancora fatico di inquadrare nel senso che con Moreno Longo è una squadra secondo me molto più cinica rispetto all'inizio stagione è una squadra che riesce a concretizzare un po' di più fa tanta fatica anche a difendere se analizziamo bene la partita contro la Ternana sull'1-0 2-0 la Ternana ha preso due o tre traverse che comunque hanno fatto tremare e lì poi è l'episodio che ti può decidere la partita ma poi il Como è stato bravo nel chiuderla definitivamente col 3-0 una squadra comunque con 22 gol fatti non tantissimi ma comunque neanche pochi sicuramente una media un po' più alta rispetto al Benevento più di un gol a partita lo fa la squadra di Moreno Longo 27 gol subiti ecco sicuramente la difesa è un qualcosa da sistemare mi viene in mente ancora la la pessima prestazione fatta contro il Modena a Modena quando hanno perso 5-1 analizzando invece un dato sul sul Como sulla fase difensiva ragazzi il Como per tiri in porta subiti è esattamente è al quindicesimo posto per tiri subiti 76 tiri subiti con 54 partiti parate del suo del suo portiere una percentuale comunque alta di parate 71,1% dei tiri vengono parati ha tenuto la porta inviolata ragazzi per 5 volte in 19 partite non è neanche troppo poco per una squadra che comunque in questo momento l'obiettivo minimo è la salvezza sicuramente il Como era stato costruito per altro per cercare almeno di arrivare ai playoff secondo me l'unico reparto vero da rinforzare è solo il reparto difensivo perché davanti e centrocampo è un'ottima squadra andiamo andiamo avanti con la SPAL che è l'altra mia grande delusione ragazzi perché la SPAL io inizio anno pensavo che come minimo poteva lottarsela per un posto nei playoff così non è la SPAL è stracombenemente quella che vedo anche leggermente peggio perché con De Rossi non ho visto veramente poco ho visto qualcosina nelle ultime due partite anche nella sconfitta contro il Pisa in casa qualcosina di buono ha fatto vedere nel primo tempo è una squadra che fa fatica tanta fatica a fare il gol se dicevamo del Benevento che fa fatica a fare il gol la SPAL mi dà ancora di più quella percezione anche se comunque alla fine ha fatto più gol del Benevento perché sono 4 gol in più ma ricordiamo che di questi 21 gol segnati 5 solo li hanno fatti contro il Cosenza in un SPAL Cosenza finito 5 a 1 e quindi ragazzi è una SPAL che anche per me è una grandissima delusione è avventurato affloppato in tutti i termini sia l'anno scorso sia quest'anno all'inizio De Rossi proviamo ancora a dargli tempo però la SPAL è una squadra che mi sa di poco nel senso manca tanto davanti dietro comunque subisce perché per tiri subiti ragazzi la SPAL è messa leggermente meglio perché è dodicesima per tiri in porta subiti 75 tiri in porta subiti alla fine solo un tiro in porta in meno rispetto rispetto al Como percentuale di parate leggermente più alta 72% ma se andiamo a vedere anche tiri per squadra ragazzi la SPAL è quinta ultima rispetto a questa classifica 220 tiri effettuati in totali 72 tiri solo in porta è una squadra che fa veramente tanta fatica per i 90 minuti di media ragazzi la SPAL fa più o meno 11 tiri totali in tutta una partita è qualcosina che va migliorato sui tiri in porta a fine meno fa 3 tiri in porta a partita e sono dati sicuramente da migliorare però è anche poco cinica sicuramente poco cinica perché le occasioni ogni tanto se le crea gli attaccanti sbagliano anche parecchio dalla Mantia a Moncini però per me la SPAL è la grande delusione anche lei credo che difficilmente rispetto rispetto alle altre due possa tirarsi fuori da questa situazione se in questo momento tra le 3 devo scommettere su chi si può salvare al 100% ad oggi vi dico il como così come vi dico che il Venezia può tirarsi fuori da questa situazione il Venezia di Vanoli che sicuramente è una delusione in questo inizio di campionato in questa metà stagione Javorcic ha fallito in tutti i sensi Vanoli ha tirato fuori qualcosa di interessante a questa squadra la vedo più che a male ontica riesce a giocare meglio l'ultimo pareggio quello ci ho fatto contro il Parma per 2-2 in casa è una risposta importante perché ha fatto quel brutto primo tempo ma poi ho visto un Venezia concreto che ha creato molto nel secondo tempo il Venezia può veramente vantare di avere un bomber vero come poi Anpaolo che ha già fatto 7 gol e secondo me è una squadra in crescita la squadra di Vanoli che può da qui in avanti magari raccogliere quelle due tra vittorie consecutive che poi ti possono permettere di metterti fuori dalla zona dalle sabbie mobili avrà un test importante lunedì contro il Giano Amarassi vediamo quello che riesce a fare un problema di questo Venezia è la difesa 28 gol subiti sono veramente tanti un attacco che tutto sommato adesso inizia a essere un po' più pericoloso però anche per il Venezia la difesa è un dato da migliorare se vogliamo un attimo parlare di numeri difensivi il Venezia è la quart'ultima squadra nel senso è la quarta squadra per più tiri in porto subiti 80 tiri in porto subiti 57 le parate del portiere 70% di percentuale di parate sicuramente è qualcosa da sistemare solo due porte inviolate dall'inizio della stagione questo era ragazzi era un video sulle mie quattro delusioni fino a questo momento avete notato che ho messo tutte squadre che sono in bassa classifica ma sicuramente tutto inizio non ci aspettavamo qualcosa di più da Spal Venezia Benevento e Como fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento pollice su al video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi a un prossimo video